Più che lo sport, la sicurezza. La Francia, Parigi, ancora nel merino dei sabotatori, è di queste ore l'arresto di un attivista sospettato come uno degli autori dei guasti che venerdì scorso hanno mandato in tilt i treni francesi ad alta velocità. L'uomo infatti aveva nel suo veicolo chiavi d'accesso ai locali tecnici della società ferroviaria francese, aveva anche arnesi da scasso come le tronchese e un set di chiavi universali, nonché manuali e volantini legati all'ultrasinistra. Oggi intanto i treni sono tornati operativi in tutta la Francia, l'alta velocità è stata dunque ripristinata, vincendo così una sfida davvero impegnativa con centinaia di cavi tagliati, centraline e quadri elettrici bruciati in tre punti chiave della rete ferroviaria che avevano paralizzato il traffico ferroviario francese. E oggi un nuovo sabotaggio per la sicurezza, la polizia francese ha reso noto infatti che le reti in fibra ottica di diversi operatori in sei dipartimenti sono state danneggiate, Parigi a quanto risulta però non è stata attaccata. Una domanda resta ancora nello sfondo, si tratta di attacchi organizzati da una frangia politica interna oppure il disegno è molto più ampio? D'altronde il ministro degli esteri israeliano, che esce poco prima dell'inizio dei giochi olimpici, aveva inviato una lettera al suo omologo francese avvertendolo di un complotto sostenuto dall'Iran per attaccare la delegazione israeliana alle Olimpiadi di Parigi 2024.